Torna alla battipagliese il re David Mounard, il cacciatore francese classe 1980, un attaccante dal passato colorioso, vestito in Italia alle casacche del Foggia, Gallipoli, Siena, Benevento, Salernitana, Catanzaro, Agropoli ed Ebolitana. Al momento della firma Mounard si è mostrato entusiasta di tornare a vestire la maglia della battipagliese. Sto bene, sono felice e non vedo l'ora di iniziare. L'amore che provo per questa maglia non è mai finito. Oggi abbiamo un progetto importante che coinvolge molte persone di battipaglie, spero che sia l'inizio, di una grande era. La mia è una storia d'amore, mai finita con la battipagliese. Avevo parecchie richieste, ma il mio cuore ha sempre voluto tornare qua. È presto per parlare della squadra, però dobbiamo creare un gruppo importante per far sì di essere all'altezza della piazza. Infine, un messaggio importante. Devo mettere la mia esperienza a disposizione dei più giovani ed ero l'animo per questa maglia. I tifosi sanno cosa penso di loro. È una piazza che ti entra dentro e non c'entra niente con queste categorie.